Quando riguarda l'astronomia siete stati in tantissimi che avete chiesto gli argomenti più disparati, ho un'idea di come riuscirò a condensare in pochissimi istanti tutto quanto questo argomento immenso, però proverò a fare del mio meglio. Giacobbe92 mi aveva chiesto di parlare dei wormhole. I wormhole non sono altro che una specie di scorciatoia prevista dalla teoria della relatività, se non mi ricordo male, per la quale in teoria è possibile oltrepassare grandi porzioni di universo in un unico istante solo. In pratica se tu vai a pensare all'universo invece di essere una cosa tridimensionale come noi la vediamo qua come un foglio di carta, facciamo finta che c'è questo cazzo di foglio di carta che è l'universo, facciamo finta che questo foglio di carta piatto è l'universo e che ci siano all'interno di questo universo due punti, il punto A e il punto B, in linea teorica dal punto A al punto B l'universo dice che è possibile oltrepassarlo solamente in questo senso qua, ma se io ipoteticamente prendessi questo cazzo di foglio di carta, lo accartocciassi su se stesso, logicamente il punto A e il punto B si troverebbero praticamente a combaciare. Questa cosa qua è prevista dal wormhole, cioè il wormhole è in teoria una contrazione adimensionale o extradimensionale dello spazio così come lo conosciamo che permette di passare dal punto A al punto B accartocciando il foglio. AK Gaming mi dice parla della gravità quantistica, posso dire che non capisco la domanda, nel senso che i quanti in linea teorica, ma magari mi ricordo male io, non soffrono la gravità come la intendiamo noi, nel senso che all'interno della meccanica quantistica ci sono un sacco di forze, tra cui l'elettromagnetica e quella di interazione forte e debole che sono oltre il concetto di gravità che noi sentiamo solamente macroscopicamente. Infatti uno dei grandi problemi della fisica è il fatto che la meccanica quantistica e la realtà macroscopica così come la intendiamo noi non sono compatibili, le meccaniche che li governano sono profondamente diverse. Sammy Fisher SC chiede perché Plutone non è più un pianeta, Plutone non è più considerato un pianeta all'interno del sistema solare, cosa che io odio d'accordo perché oana means family e family significa che nessuno viene lasciato indietro, è per il semplice fatto che con il tempo all'esterno del sistema solare sono stati individuati alcuni corpi celesti di dimensioni comparabili a quelle di Plutone se non addirittura più grandi che orbitano attorno al sole esattamente come qualunque altro tipo di pianeta. Quindi i casi erano due, o si estendeva al titolo di pianeta tutti quanti questi corpi celesti minori che quindi avrebbero fatto parte del sistema solare in quanto pianeti e si sarebbe dovuto trovare un nuovo nome per ciascuno di loro, oppure fare la cosa più semplice di tutte, ovvero dire, dato che Plutone è un corpo celeste veramente molto molto piccolo, diciamo che non è più un cazzo di pianeta e basta. Crazy Banani chiede dei buchi neri, Cristo santo, allora i buchi neri, allora aspettate un attimino dunque, vediamo se c'è qualcun altro che mi chiedeva dei buchi neri, Gianluigi Soleac, buchi neri, formazione e teorie sull'oltre universo, confini a un centro, Marco Pernazza, la creazione dell'universo e il sistema solare, Tizio Caio, Sempronio e Liefi della singolarità dei buchi neri, Ense, La, Dan dell'astronomia e del metal e The Hell of Gamers delle stelle della nascita e della morte. Cristo santo, allora partiamo dal principio, dunque Big Ben, formazione dell'universo, tutto quanto ha origine da una mega esplosione gigantesca che ha avuto origine tipo milioni di miliardi di anni fa, dalla quale ha avuto origine tutto quanto. Prima non si sa che cosa ci fosse ed è possibile calcolare che cosa ci fosse, che cosa ci sia stato dopo, solamente per delle teorie perché nulla di questo è stato dimostrato, solamente fino a praticamente pochissime frazioni di secondo dopo questo cazzo di Big Ben. All'inizio non si sa bene che cosa cazzo ci fosse, una specie di compattato enorme d'accordo in cui nulla alle dimensioni del tempo non avevano assolutamente senso. È possibile sospettare questa cosa del Big Ben per il semplice fatto che tutte quante le galassie e i corpi celesti, se osservati con il telescopio, in pratica sembrano allontanarsi. Il fatto è che si allontanano tutti quanti dalla Terra, così come la Terra si allontana da loro e così come tutti quanti si allontanano tra di loro. Quindi in realtà non è possibile classificare un vero e proprio centro dell'universo perché in pratica è come se l'universo fosse ai limiti estremi di ogni cosa che noi riusciamo a osservare. Mi spiego meglio, se io riesco a vedere quel cazzo di albero là in fondo è perché in linea teorica c'è il Sole che colpisce quest'albero, l'albero che fa rimbalzare questa luce secondo lo spettrometro verde e la luce verde, la luce marrone di cui è composto quel cazzo di albero arrivano alla mia retina, la colpiscono, il cervello processa queste informazioni e mi dice lì c'è una massa verde che io interpreto con la mia conoscenza come albero. Ma tutto questo è possibile solamente perché il Sole fa rimbalzare la sua luce che poi rimbalza a sua volta contro di me. Quando non c'è questo tipo di luce io non riesco a vedere un cazzo. Al di là comunque di questo tra me e l'albero c'è una certa distanza e quindi la luce impiega pochissime frazioni di secondo per partire da quel cazzo di albero e arrivare al mio occhio. Per fare questo impiega dei secondi, quindi impiega del tempo. Quindi per cui se io vado molto al di là praticamente della mia osservazione riuscirò a arrivare a vedere qualche cosa che è 300.000 km lontano da me. Questo significa che la luce che colpisce quell'oggetto o che viene creata da quell'oggetto per arrivare a me ci mette esattamente un secondo dato che la luce come ben sappiamo è veloce 300.000 km al secondo. Questo significa che nel momento in cui io vedo quell'oggetto, quell'oggetto in teoria è cambiato perché mentre io lo guardo è passato un secondo e magari in quel secondo è successo qualche tipo di catastrofe che in pratica non mi descriva che cosa sta succedendo in questo momento. Quindi per cui tutto quanto quello che io vedo oltre 300.000 km al secondo è già passato perché è lontano un secondo luce. Andando avanti per questo ragionamento posso vedere cose che siano distanti 60 secondi, quindi dobbiamo moltiplicare 60 per 300.000 km per conoscere la distanza di un minuto luce e parlando di anni luce si arriva effettivamente a una delle più grosse distanze possibili immaginabili. In teoria l'universo osservabile intorno a noi ha un diametro di 93 miliardi di anni luce che è praticamente la dimensione più o meno divisa per due del pisello di Maba. Ma questo comunque significa che se noi vediamo una cosa distante un anno luce vuol dire che noi stiamo vedendo quella cosa con un anno di ritardo. Se noi fossimo in grado di arrivare praticamente con lo sguardo al limite estremo dell'universo noi vedremmo in pratica il Big Ben. Solo che questa cosa qua paradossalmente è possibile vederla sia che io guardi qua, sia che io guardi qua, sia che io guardi di là con il mio telescopio che guarda a un sacco di anni luce. Questa cosa però non è possibile, chissà perché. Noi possiamo vedere solamente a 93 miliardi di cose di distanza e in 93 di anni luce di distanza e in 93 miliardi di anni un sacco di cose d'accordo non ci sono più. Quindi metà del nostro firmamento potrebbe comporsi di stelle che noi stiamo osservando che in pratica mentre io vi sto parlando non ci sono più. Parliamo allora di stelle. Allora le stelle nascono da una specie di equilibrio, nel senso che in mezzo a un sacco di vuoto rappresentato praticamente dal vuoto interstellare ci sono praticamente varie molecole elementari. Tutte quante queste molecole facciamo finta che sono, o da atomi veramente, molecole meglio dai, sono fatte da idrogeno. Facciamo finta che tutte quante queste cazzo di molecoline sono di idrogeno. Allora ci sono tutte quante queste cazzo di molecoline di idrogeno che come tutti quanti sappiamo sono attratte le une dalle altre perché ogni oggetto all'interno dell'universo ha una gravità propria e attrae intorno a sé praticamente tutti quanti gli oggetti con cui riesci a venire a contatto. In pratica mentre io sono seduto sulla mia sedia e la terra mi sta spingendo verso di sé anche io in minima parte sto praticamente attraendo la terra verso di me. Fatto sta che insomma tutte quante queste cazzo di molecoline di idrogeno non hanno ancora una forza necessaria per potersi attrarre le une dalle altre. A un certo punto però succede qualcosa. In fondo al mar viene fuori una cazzo di esplosione, viene una folata di vento elettromagnetico, viene un qualche tipo di cacaio che scombussola questo equilibrio perfetto e spinge praticamente la nostra prima molecola di idrogeno da qua a qua. Nel momento in cui la piccola molecola di idrogeno viene spostata da qua a qua compie un piccolo passo e la sua forza elettromagnetica, buonanotte, la sua forza di gravità è sufficiente per poter attrarre questa cazzo di altra molecola di idrogeno. Dato che le molecole di idrogeno si attraggono vicendevolmente dopo pochissimo tempo la loro posizione non sarà più questa ma questa. Anzi della verità anche questa qua si muove verso di lei ma insomma avete capito. Nel momento in cui queste due cazzo di molecole di idrogeno però sono insieme hanno una forza gravitazionale che è in pratica uguale alla somma delle due. Dato che queste qua prima non potevano attrarsi a vicenda perché erano troppo piccole però questo piccolo corpo di molecoline praticamente di idrogeno è adesso abbastanza forte per attrarre queste cazzo di molecole. Quindi per cui la molecola di idrogeno passerà da questa posizione a questa posizione mentre tutte quante le altre molecole di idrogeno che ci sono vicino riescono a agglomerarsi d'accordo al corpo principale. Questa cosa qua va avanti a cascata fino a quando tutte quante le molecole di questa cazzo di zona sono agglomerate all'interno di una piccola palletta di idrogeno. Nel momento in cui però l'idrogeno arriva per esempio da là in fondo, d'accordo, a là in fondo perché sente un cazzo di ammasso gravitazionale perché dice ah è lì la festa che è figata, boom, impatta praticamente in mezzo a questo cazzo di palletta gravitazionale, si schianta provocando un aumento della gravità, un aumento della pressione e un aumento anche della temperatura. Quando ci sono tutte quante queste cazzo di molecole di idrogeno che fanno veramente un macello di gravità, di pressione e di temperatura perché fanno veramente party hard, d'accordo, la temperatura comincia ad alzarsi e si alza e sempre di più insieme alla pressione fino a quando le due cazzo di molecole di idrogeno dell'inizio di tutto quanto questo gran caccaio, d'accordo, non si sentono assolutamente compresse dal sistema eteropatriarcale e dicono porca puttana sai che c'è? Dato che qua intorno fa un sacco di caldo, io e te perdiamo la nostra conformazione di base e ci trasformiamo in qualche cos'altro di diverso. È quindi la formazione dell'elio quando praticamente due atomi di idrogeno si fondono insieme formano praticamente un cazzo di atomo di elio cosa succede? Che nel momento in cui questi due cazzo di atomi di idrogeno diventano un atomo di elio non tutta quanta la loro massa però originale viene, diciamo così, viene conservata. Un sacco di roba viene persa. È la fusione nucleare. Nel momento in cui questo tipo di processo che si differenzia tra l'altro dalla fissione nucleare per un sacco di altre cose ed è per questo che noi possiamo controllare la fissione ma non la fusione e se volete che io vi spieghi tutta quanta sta roba mi dite nei commenti di spiegarvi la differenza tra fusione e fissione perché adesso non ne ho voglia. Comunque insomma questa cazzo di reazione genera un'enorme quantità di energia che spinge tutte quante le altre molecole di idrogeno a compattarsi tra di loro in un'orgia sempre più grossa e quindi all'interno di questi stadi di idrogeno ci saranno sempre più molecole che si trasformano in elio. Nel momento in cui però praticamente ci sono così tante molecole di elio che si trasformano tutte quante insieme viene fuori di nuovo un sacco di energia in questo caso termica. Si accende quindi una stella. Una stella diventa una specie di agglomerato fiammeggiante in cui al suo interno l'idrogeno continua a trasformarsi in in elio. L'elio con tutta quanta la sua energia spinge la roba all'esterno praticamente con una forza di combustione immensa mentre tutto intorno le molecole di idrogeno continuano a precipitare all'interno di questa cazzo di all'interno di questa cazzo di palla fiammeggiante. È bellissimo perché quindi la stella man mano che va avanti nel suo ciclo vitale si autoconsuma, prende tutto quanto l'idrogeno d'accordo di cui è provvista e lo trasforma rimpicciolendosi di fatto in elio. In realtà quando tutto quanto questa cosa d'accordo continua ad andare avanti per un sacco di tempo all'interno della sterna potrebbe succedere di nuovo una ulteriore reazione chimica perché magari una reazione scusate nucleare perché in teoria praticamente l'elio che c'è qui dentro potrebbe aver voglia di fondersi ulteriormente a un altro atomo d'accordo di idrogeno e formare del litio o addirittura due elementi praticamente due pezzetti di elio potrebbero fondersi in uno di berillio che ha numero atomico 4. Indi per cui quando le persone vi dicono che tutti quanti i metalli e tutti quanti gli elementi di cui siamo formati e di cui è formata la terra e di cui è formato l'universo hanno origine dalle stelle effettivamente è vero perché ci sono stati vari tipi di fusioni nucleari sempre più avanzati che hanno portato alla come si chiama la formazione di metalli e di elementi sempre più pesanti e sempre più massicci e allo sprigionamento di energia sempre maggiore. Nel momento in cui questa cosa qua dell'idrogeno e del elio continua da un sacco di tempo d'accordo la stella continua a bruciare ed è all'interno di quella che si chiama sequenza principale che è il momento in cui è il nostro sole in questo momento la nostra stella è una stella di sequenza principale di medie dimensioni. In ogni caso arriva un momento in cui tutto quanto il carburante della stella tende a finire e si genera praticamente una differenza molto rilevante tra quello che è il suo nucleo e quelli che sono gli strati più esterni. Il nucleo quindi tende a collassare mentre gli strati esterni tendono a rimanere fuori. Dato che il nucleo interno praticamente subisce di nuovo una violenta reazione dell'energia viene espansa e gli strati più esterni della stella vengono praticamente espulsi. Dipendendo dalla dimensione della stella questi casi di strati esterni vengono espulsi in maniera più o meno violenta e ciò che ne risulta è una cosa più o meno differente. La cosa che dovrebbe accadere a quello che è il nostro sole date le sue dimensioni relativamente scarse è il fatto che come un palloncino praticamente gli strati più esterni vengono soffiati all'esterno per la formazione di quella che viene definita una specie di gigante rossa. Cioè da questo cazzo di nucleo interno viene soffiato verso l'esterno tutto quanto l'idrogeno che ancora non è riuscito a bruciare formando una cosa molto poco densa e molto espansa d'accordo che dovrebbe poter arrivare a inglobare dicono mercurio e venere ma non si sa ancora ma non si sa ancora se la terra. Fatto sta che praticamente questo soffio continuerà ad essere in una maniera sempre più smorta fino a quando per esempio il nostro sole diventerà una nebulosa planetaria cioè praticamente un'immensa nube di gas polveri e schifezze che si raffredda gradualmente nel tempo lasciando al suo interno una nana bianca che è praticamente una palletta di di elio che continua a bruciare senza fine. Dicono che in teoria quando tutto quanto quest'elio ha finito di bruciare che non ha più intorno tutto quanto l'idrogeno che gli faceva pressione potrebbe arrivare a essere una nana nera o una nana bruna. Dato che ancora una nana bruna non è stata osservata si ipotizza che la formazione di una nana bruna abbia un tempo praticamente di formazione che sia ancora più elevato del tempo dell'universo stesso insomma perché se ci guardiamo intorno ancora non esiste vuol dire che sta cosa ancora deve accadere. Se invece la stella era di proporzioni molto più grandi si potrebbe avere l'esplosione di una cosiddetta supernova ovvero tutti quanti gli strati esterni vengono sparati fuori a una velocità impressionante mentre il nucleo continua a bruciare perché si è innescato un ulteriore processo di fusione. Nel momento in cui succede questo si avvia poi un appunto dopo questa spettacolare esplosione un processo di collasso gravitazionale che di nuovo dipendendo dalla massa della stella ha due possibili destini o la stella di neutroni ovvero tutti quanti gli elementi che erano all'interno del nucleo in quel momento vengono a perdere tutti quanti gli elettroni di cui sono composti. Di nuovo questo qua quello là è un atomo d'accordo? Atomo, nucleo, elettroni. Questo qua è un altro atomo con due elettroni che gli girano intorno a questo cazzo di nucleo. I due atomi non potranno mai venire a contatto più di così perché ci sono praticamente le orbite degli elettroni che si spacchiano a vicenda che si danno fastidio e quindi non riescono ad entrare più forte. Però nel momento in cui la pressione e la gravità sono così importanti avviene uno stadio che noi ancora non conosciamo molto bene della materia in cui gli elettroni vengono sparati via perché la gravità è troppa e tutti quanti i cazzo di nuclei vengono ad avvicinarsi insieme formando praticamente solamente questa cazzo di stella di neutroni che è una cosa super mega pesantissima e super mega calda che in teoria pesa una quantità di roba infinita perché è talmente densa che un solo cucchiaino pensa come tanti autocarri o come tanti treni messi uno sopra l'altro. Un ulteriore destino che potrebbe avere la stella se era ancora più immensa e ancora più compatta di quello che potrebbe generare una stella di neutroni è il cosiddetto buco nero. I neutroni e gli atomi vengono a collassare in una maniera così enorme e così immensa che si forma un campo gravitazionale di forza cosiddetta infinita che comincia ad attrarre al suo interno e all'interno di una specie di imbuto e di buco senza fine tutto ciò che viene circondato. Comincia a inglobare materia completamente a caso. La formazione di un buco nero è qualcosa che si studia parecchio ma che Stephen Hawking è uno dei più grandi scienziati che studia la cosa ma che nessuno ha ancora compreso appieno nel senso che dal buco nero non è possibile vedere niente perché neanche la luce riesce a sfuggirgli. Per comprendere meglio questo concetto si faccia finta che all'interno della terra per uscire fuori dalla sua gravità serva una certa velocità che è di boh facciamo 30 km al secondo allora io se ho 30 km al secondo e vado verso l'esterno riesco a vincere la gravità terrestre logicamente serve una velocità molto superiore è per fare un esempio se io ho però un pianeta molto più grande d'accordo la gravità che è necessaria per vincere la gravità invece di essere 30 sarà 60 ecco da un buco nero però per poterne uscire servirebbe una velocità superiore a 300.000 km al secondo che è la velocità della luce quindi in teoria servirebbe un razzo più veloce della luce che non è fisicamente possibile per poter sfuggire al buco nero è per questo che la luce che è in prossimità del buco nero viene deviata e quella che ne rimane ancora più vicino viene direttamente inghiottita la gravità di un buco nero non è incentrata praticamente intorno a tutto quanto il buco nero stesso ma è logicamente molto più ampia al suo centro in realtà il buco nero così come lo vediamo che noi ce lo immaginiamo come una specie di sfera che ingloba tutto quanto non è così come si dice non è così come la pensiamo nel senso che il buco nero in realtà ha questa specie di nucleo che è il vero e proprio buco nero stesso e ha intorno una specie di guscio d'accordo che si chiama orizzonte degli eventi in pratica se io luce arrivo da questa posizione qua la gravità qui è talmente forte che invece di farmi andare dritto mi devierà un pochetto verso questa dimensione qua ma se io luce sto arrivando di qua arrivo a questa parte dell'orizzonte degli eventi e ci entro dentro io rimarrò per sempre intrappolato all'interno di questo posto quindi per cui ogni tipo di materia compresa la luce compresa i fotoni nel momento in cui oltrepassano l'orizzonte degli eventi la gravità è così forte da non lasciare nessun tipo di scampo questo cazzo di buco nero diventa una cosa del genere una curvatura spazio temporale infinita in pratica tutto quanto quello che all'interno precipita all'interno di quell'imbuto che non ha un vero e proprio un vero e proprio termine è una specie di pozzo senza fondo ed è particolare questa cosa qua nel senso che nessuno è mai riuscito a guardare dentro un buco nero e quindi nessuno sa che cosa ci cosa succeda praticamente all'interno in teoria la materia viene compattata e sfrettellata a uno stadio che noi non conosciamo mi sono messo un attimino in creative per farvi capire meglio questo concetto e tra l'altro questo tipo di cosa del buco nero che risucchia tutto e che non si sa bene di che cazzo sia capace è una delle cose su cui si basa il film interstellar moltissime volte è possibile che ci siano dei sistemi stellari che hanno praticamente non al centro di se stessi un buco nero ma magari un buco nero e una stella che qua continua praticamente a bruciare espellendo materia d'energia e il buco nero praticamente si alimenta prendendo parte di questa di questa cazzo di di materia e inglobandola dentro se stessa perché in pratica un buco nero che non ha più niente da assorbire mangia se stesso fino a morire ed evaporare lo spazio che il buco nero prende intorno a sé per poter prendere questa cazzo di materia che si avvolge a spirale intorno ad esso è detto disco di accrescimento e ci sono delle stelle che continuano a vomitare materia mentre il buco nero riesce e continua praticamente a prendere materia però senza poter assorbire di fatto la stella esistono tra l'altro anche tra l'altro molti altri sistemi binari nei quali c'è una stella molto più grande nella vicino alla quale orbita una stella più piccola ed entrambe le stelle sono al centro del cosiddetto del sistema solare uno di questi sistemi è sirio che tra l'altro è la mia stella preferita ed esistono anche esempi di stelle che ancora non si sono formate o di protostelle o di cose che avrebbero potuto essere stelle ma ancora non lo sono per esempio prendiamo il nostro pianeta gassoso giove è una massa gassosa gigantesca con intorno un sacco di cazzo di pianetini non aveva abbastanza gravità non aveva abbastanza gas per praticamente ed era troppo impuro praticamente per generare una stella ma in realtà giove è praticamente una stella mancata ed è per questo che saturno e giove hanno così tanti anelli intorno a sé ed è per questo che hanno così tante lune perché sono dei piccoli sistemi solari in miniatura che ancora non si sono formati signori io penso d'accordo che questa puntata sia giunta al termine perché non so veramente che cazzo dirvi di altro ancora spero di aver risposto a tutte quante queste domande io spero che questa puntata non sia durata troppo se mi conosco l'ho divisa in due perché ho veramente parlato un sacco più o meno una cinquantina di minuti in totale che di tanti non ho idea di quanti di quanti arriveranno in ogni caso io spero insomma di esservi stato utile di essere stato utile di essere stato non noioso ma né troppo prolisso ho tentato di condensare questi argomenti immensi nel più breve tempo possibile vi chiedo per cortesia lasciatemi un mi piace in maniera tale che io possa vedere che tutto quanto sto sforzo sto casino mi tira fuori qualcosa d'accordo perché a me piacerebbe vedere che tutto quanto tutta la mia paura non era ingiustificata che tutto quanto sto tempo che ho impiegato a spiegare non era non è stato tempo buttato insomma ma che qualcuno si è si è divertito qualcuno si è l'ha trovato interessante non avete trovato un pippone di quelli che si vedono non so nei documentari noiosi che cazzo ne so io quindi praticamente fatemi capire in qualche modo che sta cosa vi è piaciuta vi invito quindi insomma a commentare a condividere questo video con i vostri amici magari se se l'avete trovato istruttivo in qualche modo di nuovo vi ricordo che tutto quanto quello che ho detto non ha una valenza scientifica precisa nel senso che io sono un ragazzo di 27 anni senza nessun tipo di titolo di studio particolare che queste cose le studia per passione per interesse per curiosità ma non sono un laureato non vi ho descritto cose troppo precise perché non le so non ho nessun tipo di qualifica per poter essere un insegnante di per cui non prendete però raccolato tutto quello che sto dicendo sono infarinature sono cose generali per in maniera che in teoria io spero che possano servirvi a farvi capire come mai a me piace tutta quanta questa roba vi invito a scrivere come sempre copiosi nei commenti in maniera qualche altro tipo di argomento in maniera tale che io possa avere un'infarinatura per quelle che potrebbero essere le prossime puntate della pinno craft che comunque continuo ad avere come obiettivo principale quello di costruire quella cazzo di pinno nera però come abbiamo detto all'inizio con il gameplay che viene intervallato dalle spiegazioni e finalmente considerato che null'altro è rimasto da dire da uno sfinito max dei berro fronzo adios a todos